Gli ambulatori pediatrici di Piacenza e Provincia, ma più in generale di tutta Italia, stanno registrando delle problematiche di salute tra i più giovani che l'emergenza Covid ha contribuito a ingigantire su tutte l'ubesità che è letteralmente esplosa dopo la fine del lockdown e problemi di tipo psicologico dovuti alla mancata socializzazione. È l'allarme lanciato da Roberto Sacchetti, segretario provinciale della Federazione dei Medici Pediatri. Noi vediamo bambini che vengono nei controlli dopo 4-5 mesi, questo è successo soprattutto maggio-giugno, ma sta succedendo anche adesso, dopo lo stop di ottobre-novembre, con incrementi ponderali decisamente preoccupanti che sono frutto di un mix tra un aumento dell'intecca calorico e un'aumentata sedentarietà. E poi, di conseguenza, dietro questo vanno problemi di tipo psicologico. disturbi di depressione, di ansia, ipocondria, difficoltà a stare insieme agli altri che stiamo vedendo soprattutto negli adolescenti. La soluzione ipotizzata dai pediatri, dunque, potrebbe essere quella di riscoprire il gioco all'aperto. Tanti bambini, infatti, sono fermi da febbraio. Occorrebbe dunque, sempre secondo i medici, recuperare questa concezione, il tutto nella speranza di tornare presto alla normalità. È arrivato il momento di riportare l'attenzione di tutti i problemi di salute di questi bambini, di questi ragazzi, per cui dobbiamo sicuramente trovare un modo di dare a questi ragazzi la possibilità di stare insieme e di fare socializzazione, di fare movimento, di fare attività fisica, sempre in sicurezza, ma di poterla fare. Grazie a tutti.